Anni tiene impegnati numerosi scienziati inglesi in cerca di una risposta plausibile. Ci riferiamo all'enigma dei cerchi giallastri impressi in un grande campo di grano nella pianura del Wiltshire. Un messaggio per ora indecifrabile, forse inviato dagli extraterrestri o più probabilmente una burla colossale. Dieci anni di indagini andati in fumo. Così hanno commentato gli esperti impegnati nella ricerca sui singolari cerchi che compaiono improvvisamente nei campi del Wiltshire nell'Inghilterra del Sud. Dopo un lavoro che aveva visto impegnati i maggiori ricercatori del paese, tra i campi inglesi, alla ricerca della causa di quei cerchi perfetti. Una volta sistemate speciali e costosissime telecamere a raggi infrarosse offerte dalla BBC e dalla televisione giapponesi, gli esperti hanno registrato alcune misteriose luci arancio che danzavano nel cielo. L'amara sorpresa c'è stata la mattina seguente, era tutta una burla, qualcuno in vena di scherzi si era divertito con delle torce elettriche.